In queste immagini il pericoloso stato di degrado di Parco Papacci, detto anche Parco della Pace, in via di Grotta Rosso. Il Presidente del Comitato Cittadino Grotta Rossa Parco di Veio, Renato Benedetti, ha più volte fatto presente in municipio lo stato e la pericolosità della situazione in questo parco, dove bambini si alternano per tutto il giorno. Tra pochi minuti saranno qui sul campetto di pallacanestro con una rese a dir poco pietosa attaccata all'anello. Vetri rotti, bottiglie da rompere, questi ferri pericolosissimi, sporgenti, questi più visibili ma anche molti, alla base dei pali che sporgono. qui i bambini possono farsi veramente male. Questo non è un pugno nello stomaco, è di più, di più di quanto si può immaginare. Quello che può succedere potrebbe essere davvero grave. Magari non solo con una gomitata per terra. Magari non solo con una gomitata per terra. Magari non solo con una gomitata per terra. Grazie a tutti